Abbiamo un videomessaggio di Iva Zanicchi che in questo momento è ricoverata all'ospedale di Vimercate a causa del coronavirus e ha delle cose da dire che vale la pena di ascoltare. Cari amici, purtroppo sono finita all'ospedale, sono all'ospedale di Vimercate e anche ho la polmonite bilaterale, vabbè dai, io sono fiduciosa, sono gli altri che mi dicono ah vedrai che ce la farai, questo mi spavento un po', io lo so che ce la farò, però sentirselo dire, va bene, è così, adesso sto abbastanza tranquilla, quando arriva la sera va bene, entro in crisi, credo che mi correranno bene, sono molto carini, sono qui a Vimercate, questo ospedale è nuovo nel reparto del Tulipano Rosso, oggi è una giornata bellissima, piena di sole, godetevela eh, mi raccomando fate attenzione, adesso voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui come degli astronauti, ma poverini si devono difendere, giusto? Ciao, 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 ciao. Tra loro sono gli angeli custodi, ecco qua, bardati, però che... Guardala, io l'hai sentito, io ti guardavo con la mia nonna, era un momento fisso. E allora naturalmente anche da parte di tutti noi di Uno Mattino, un grande abbraccio a Iva Zanicchi per una pronta guarigione, grazie però per queste parole perché è sempre importante ricordare quanto grave sia questa malattia e quanto è importante avere degli atteggiamenti di precauzione e di cautela. Grazie. 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 Grazie.